Il problema dell'informazione per chi ad esempio è bergamasco come me, che vive in un comune lungo il Serio, sostanzialmente era fondamentale, perché durante la fase di lockdown si cercava di capire un po' che cosa ci stava succedendo attorno, visto che eravamo chiusi, c'era silenzio, rotte le ambulanze e basta. Uno dei punti di riferimento per riuscire a capire un po' quello che stava succedendo era Francesca Nava che si è occupata come giornalista della situazione bergamasca e in particolare la Valseriana e coautrice anche di un instant book, Economia colposa, le verità nascoste sulla mancata zona rossa nella Valseriana e l'abbiamo invitata per chiedere a lei in pratica che cosa è accaduto nella Bergamasca e perché non si è fatta la zona rossa nella Valseriana. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie anche dell'invito, ho ascoltato davvero con interesse gli interventi che mi hanno preceduto che tra l'altro ritrovo tutti quanti condensati nella storia, nella vicenda che ha colpito Bergamo. Una vicenda che ha di fatto portato al pettine moltissimi nodi. Faccio una premessa, non posso non iniziare commentando se me lo permettete quello che è successo ieri a Bergamo, a me personalmente come bergamasca mi ha colpito moltissimo, ovviamente c'è stata una commemorazione che è stata anche trasmessa in diretta su Rai 2021, quindi in presenza del Presidente della Repubblica, che ovviamente finalmente qualcuno in pubblico ha parlato di errori e ha ammesso che qualcosa è andato storto a Bergamo. La cosa molto spiacevole è stata vedere creare una grande zona rossa intorno a un luogo pubblico che è il cimitero, un luogo pubblico che ha in questi mesi assunto anche un significato simbolico a livello anche mondiale, perché l'immagine del cimitero monumentale ha fatto veramente il giro del mondo e l'immagine dei carri militari. Ecco, vederlo blindato, quindi con una vera e propria zona rossa, vedere i cittadini e i parenti delle vittime fuori da quella cerimonia e soprattutto vedere all'interno di quella cerimonia alcuni dei responsabili, uno per tutti che io ritengo sicuramente il responsabile morale che era presente quella sera, ieri sera che è il Presidente della Lombardia. Ecco, è stato qualcosa che a me personalmente come bergamasca mi ha fatto molto male e mi ha fatto molto male perché noi oggi abbiamo dei dati che sono delle certezze, sono poche le certezze che abbiamo in tutta questa situazione, però la ricostruzione che io ho fatto mi porta a dire oggi che la presenza di Fontana, la cerimonia di ieri era veramente senza vergogna, perché oggi nessuno può dire che il 23 di febbraio, e parlo proprio del 23 di febbraio, non del 2 marzo, il 2 marzo quello che succede poi tra il 2 e l'8 marzo, se volete poi vi spiego esattamente quello che è successo in quella settimana, è a mio avviso una grande messa in scena, cioè mi riferisco alla millantata zona rossa che tra il 2 e l'8 marzo si doveva creare, perché la verità è che quello che doveva succedere, che succede veramente nelle stanze segrete del potere, non avviene tra il 2 e l'8 marzo, ma avviene almeno due settimane prima, innanzitutto noi oggi abbiamo la certezza di un documento, che tra l'altro credo che debba essere pubblicato a giorni su Nature, che è questo lavoro, questa indagine che è veramente un'eccellenza nel mondo, che è l'indagine su Voe Uganeo, che è qualcosa che è avvenuto ovviamente in Veneto, ma che ci dice tantissimo sulla situazione di Alzano e soprattutto che cosa ci dice questo studio? Ci dice qualcosa di molto importante, che ovviamente chi stava studiando e stava mappando il territorio lombardo non solo conosceva e sapeva, ma non poteva ignorare. A Voe Uganeo succede che dopo che viene testato il primo paziente sintomatico trovano che già il 3% della popolazione era infetta, questo vuol dire che ovviamente il contagio veniva da prima, ma soprattutto che aveva un indice di riproduzione molto elevato, quindi non aver chiuso immediatamente dal 23 di febbraio una zona come Nembro-Alzano e soprattutto non aver chiuso tutta la Valseriana o addirittura tutta la Lombardia, perché la scienza questo dice, c'è uno studio molto importante che è stato pubblicato, è stato fatto tra l'altro credo due o tre settimane fa dall'Università del Piemonte Orientale insieme a Crimidem, che è questo dipartimento della medicina dei disastri in collaborazione con l'Imperial College, che ha fatto uno studio a livello nazionale che però ci dice molto anche sulla Lombardia, cioè se si fosse chiuso una settimana prima con un vero lockdown, perché ovviamente quello che è stato fatto poi l'8 di marzo è stato un lockdown, io lo chiamo all'acqua di rose, cioè è stata creata una zona arancione dove non sono state chiuse le imprese produttive e poi mi concentrerò proprio su questo argomento delle imprese produttive. Bene, questo semplice studio che anticipa di una settimana la chiusura all'inizio del lockdown ci dice che a livello nazionale si sarebbero risparmiate 13.000 vite. Ovviamente a livello nazionale vuol dire che i morti quando è stato chiuso erano meno di 34.000, credo che fossero intorno ai 32.000, stiamo parlando quasi del 50% di morti, più del 60% di ricoveri ospedalieri, quindi quello che oggi noi sappiamo che ha determinato anche questo incremento di mortalità, perché il fatto di non aver contenuto il virus, di non aver chiuso un'area altamente infetta, ovviamente non solo ha creato un incremento, un eccesso di mortalità, ma è andato a intasare, a far collassare tutto un sistema sanitario ospedaliero che ovviamente ha a sua volta determinato quell'incremento di mortalità. Per cui questo studio che è a livello nazionale, ho parlato con gli autori di questo studio, ci dice che questo è una percentuale, un livello conservativo a ribasso, perché ovviamente questo trasportato in Lombardia e soprattutto nell'epicentro della pandemia, significa che probabilmente se si fosse chiuso anche solo una settimana prima, ma noi sappiamo che epidemiologi e i politici che governano la Lombardia avevano in mano i dati già a partire dal 23 di febbraio per poter chiudere la Lombardia, si sarebbero probabilmente ridotte alla mortalità quasi del 60-70%. Questo ovviamente è il cuore della consulenza tecnico-scientifica che è stata affidata al professor Crisanti e che dovrà poi essere, sarà un po' il fattore di rimente anche dell'inchiesta che è stata aperta dalla procura di Bergamo, che sta lavorando in questo momento su due ipotesi di reato, epidemia colposa e omicidio colposo. Ovviamente la strada dell'omicidio colposo è molto difficile anche come percorso legale e giuridico, perché bisognerà e bisogna dimostrare che l'evento, quindi la mancata zona rossa, abbia determinato la morte per ogni singola persona che ha denunciato. Ovviamente questo è sicuramente periglioso come percorso, invece quello di epidemia colposa è sicuramente qualcosa che non è impossibile da dimostrare e la consulenza tecnico-scientifica del professor Crisanti insieme a un'equip, io ho saputo che si avvarrà anche di statistici, di epidemiologi, anche dell'Imperial College, cioè gli stessi che hanno fatto gli studi a voi Euganeo. Bene, questo studio, cioè determinare il nesso di causalità tra la mancata zona rossa, il mancato contenimento del contagio e questo eccesso e questo incremento di mortalità in quella zona, sarà sicuramente il fattore discriminante che permetterà di capire se si potrà andare avanti con il processo e quindi anche con l'ipotesi di epidemia colposa, che ovviamente non riguarderà più la singola persona ma la collettività. Tant'è che all'interno di questo procedimento penale sarà possibile anche fare un percorso poi civile, quindi con anche risarcimento danni, perché nel momento in cui verrà determinato questo nesso di causalità e ci sarà quindi la possibilità non solo di andare sul penale con delle condanne, ma anche per ogni singolo cittadino, anche chi non ha avuto dei parenti che sono deceduti, anche chi non rientra nelle vittime del Covid che hanno già depositato i loro esposti, quindi qualunque cittadino di qualunque di questi comuni che sono stati toccati quindi da questo incremento della mortalità dovuto alla mancata zona rossa potranno ovviamente chiedere un risarcimento alla regione, allo Stato, a chi sarà. Parliamo del cuore anche di quella che è stata la mia inchiesta. Io ieri mentre guardavo le immagini di Bergamo riflettevo e mi sono chiesta, ho pensato a quello che stava pensando il Presidente Attilio Fontana. Quello che io oggi so con assoluta certezza è che nei giorni tra il 23 di febbraio e il 29 di febbraio, che io ritengo siano i giorni cruciali in cui si è deciso di non fare la zona rossa, perché poi la cosa è stata passata a Roma dal 2 e poi all'8 di marzo con le famose note dell'IS che tra l'altro sono stata io a pubblicare per prima, ma oggi ho la certezza matematica che quelle note sono state un po' una foglia di fico. Cosa voglio dire? Sono state una foglia di fico da parte della scienza e quindi dei consulenti scientifici del CTS e quindi del governo per poter dire noi ve l'avevamo detto che bisognava chiudere. Ovviamente sappiamo tutti che chiudere Nembro e Alzano il 2 di marzo era troppo tardi, cioè il 2 di marzo bisognava chiudere tutta la Lombardia e parte del Veneto o addirittura fare un lockdown nazionale già dal 2 di marzo. In realtà il 23 di febbraio tutta la giunta Fontana aveva a disposizione dei dati perché c'è proprio una tax force di epidemiologi, infettivologi, virologi, lombardi che dal minuto 1 quando si scopre il paziente 1 di Codogno, incominciano a mappare non dal 23 di febbraio di Alzano ma proprio dal 20 di febbraio, incominciano a mappare tutta la zona di Codogno e intorno a Codogno e trovano praticamente contagiati e infetti ovunque, cioè tamponano interi condomini e trovano persone infette, addirittura si rendono conto che il contagio è fuoriuscito dalla zona rossa e che è già molto esteso sul territorio e tutti questi dati li comunicano al Presidente Fontana, li comunicano all'assessore Gallera e questi dati sono nelle loro mani il 23, il 24, il 25 e via andare. Quindi la domanda che io mi faccio è per quale motivo con dei dati alla mano di questo tipo si è continuato a parlare di zona rossa ad Alzano e Nembro quando già il 23, il 24, il 25 bisognava già parlare di zona rossa probabilmente in tutta la Lombardia. Ovviamente questa era una grande patata bollente, quindi tutto il gioco poi che c'è stato dello scaricabarile ovviamente grida vendetta ed è un giochino ad uso e consumo dei media, ad uso e consumo dell'opinione pubblica. In realtà per chi non conosce la Valseriana, tutta la Bergamasca ha una densità operaia e una concentrazione di fabbriche molto alta. Parliamo di più o meno una media di 4,1 imprese per chilometro quadrato, calcolate che la media nazionale è di 1,6. Parliamo di una zona, sono andata a studiare anche attraverso una fondazione, la Fondazione Sabatini, abbiamo fatto uno studio su 17 comuni della Valseriana perché sempre si parla di Nembro e di Alzano ed escono queste informazioni rispetto a il numero di imprese che sono 378, 4 mila addetti e più o meno 680 milioni di fatturato. In realtà la Valseriana è un unicum, la Valseriana è una vallata che non ha soluzione di continuità, cioè che continua fino a Valle e fino a Bergamo ed è collegata praticamente, non è interrompibile, cioè non puoi chiudere Alzano e Nembro senza escludere anche la parte alta della Valseriana. Ecco perché va vista nel suo insieme a livello industriale, cioè la Valseriana è proprio la culla industriale della Lombardia ed è una zona dove parliamo, io nello studio di questi 17 comuni, di un fatturato intorno ai 5 miliardi di euro l'anno, circa 2.500 imprese, circa 6.000 attività di servizi che ci dicono che prima della chiudità, quindi del vero lockdown, quello del 22 marzo, quindi per praticamente quasi un mese da quando accadono i fatti di Alzano Lombardo, quindi vengono accertati due casi positivi al coronavirus e un caso sospetto al pronto soccorso di Alzano Lombardo. L'ospedale viene chiuso per 5 ore, viene riaperto, ecco, per un mese, esattamente per un mese, quindi dopo che è stata fatta la zona arancione in Lombardia, dopo che è stato fatto il lockdown nazionale, in questa zona, cioè solo nella Valseriana, ora vi do il dato della Valseriana, poi vi darò il dato di tutta la Bergamasca, bene, solo nella Valseriana 30.000 addetti, quindi tra dipendenti e addetti, diciamo, di tutte queste imprese che vi ho appena elencato, erano autorizzati a lavorare, quindi vuol dire che erano autorizzati a circolare. Ecco, io credo che questo, questo dato ci consegni anche, diciamo, il risvolto estremamente ipocrita di questa vicenda, cioè stiamo parlando di una fase, quindi il 22 di marzo, ricordatevi dove eravate e cosa stavate facendo il 20 e il 21 di marzo, cioè non si poteva uscire di casa, se si usciva di casa per portare il bambino al parco si rischiava di essere multati, se ci si allontanava con l'auto per andare a far la spesa si rischiava di essere multati, c'era chi additava il runner che andava a farsi la corsettina, ecco, in questa situazione di grande ipocrisia nazionale comunicativa, dove si puntava il dito contro la persona sbagliata che era il povero runner, bene, nella culla industriale della Lombardia in Val Seriana, 30.000 persone erano autorizzate a lavorare e quindi a circolare e a spostarsi da comune a comune e anche da regione a regione, perché ovviamente con un foglio tu potevi spostarti e potevi ovviamente portare anche il virus in giro per altre regioni oltre che per altri comuni. Ovviamente non hanno lavorato 30.000 persone, ma questo non grazie allo Stato, a una legge dello Stato o a dei decreti, non hanno lavorato 30.000 persone, probabilmente ne avranno lavorate 20.000, 18.000 prima del DPCM Chiuditalia, semplicemente perché a Bergamo è avvenuto il disastro, quindi a Bergamo molte aziende hanno chiuso perché non avevano operai, non avevano lavoratori, quindi molti si sono messi in malattia, molti si sono veramente ammalati. Le aziende, diciamo, fortemente sindacalizzate hanno minacciato di fare sciopero, quindi di bloccare le attività, questo per esempio l'ho documentato all'interno della Tenaris Dalmine. Altre aziende, io per esempio ho raccontato anche l'esempio della, diciamo, una mosca bianca che è quello della Same, che è questa multinazionale che fabbrica trattori, che è stata probabilmente l'unica a chiudere tra il 23 e il 24 di febbraio. Ovviamente ci sono una miriade di altre realtà in cui il sindacato non era forte, in cui non c'era il sindacato, in cui c'erano situazioni di precarietà e dove comunque i lavoratori sono stati costretti a lavorare. Ecco, dal 22 di marzo in poi, che cosa succede? C'è il Chiuditalia, il DPCM, che obbliga a chiudere le attività produttive a mantenere aperte solo quelle essenziali. Ecco, qui avviene una seconda, diciamo, ondata non epidemica, ma una seconda ondata di ipocrisia. Avviene che Confindustria scrive queste due lettere al presidente del Consiglio chiedendo di allargare le maglie dei codici a teco e chiedendo di introdurre le famose deroghe prefettizie. Questo in che cosa si tramuta? Innanzitutto vengono ovviamente accolte le richieste di Confindustria che già paventava, che si sarebbero persi 100 miliardi al mese, che si sarebbe fermato tutto il paese. Che cosa succede? Succede che si creano delle situazioni totalmente paradossali, soprattutto nella Bergamasca. Succede che nella Bergamasca, grazie a questi codici a teco a maglia molto larga, grazie alle deroghe prefettizie, dopo il DPCM Chiud'Italia, quindi dopo il 22 di marzo, quindi nella fase 1, quella dura e pura, quella dove ci ricordiamo c'era teoricamente il coprifuoco quando il cittadino usciva di casa per fare delle commissioni o anche solo per prendere una boccata d'aria. Bene, in questa fase, in Valseriana, continuano comunque a lavorare 13 mila persone e in tutta la Bergamasca lavorano quasi 300 mila persone. Io ho raccolto in un mesetto qualcosa come 2500 richieste di deroga presentate al prefetto, tra l'altro con questo altro meccanismo estremamente ipocrita del silenzio assenso, cioè le aziende che non si ritrovavano all'interno del codice a teco delle filiere essenziali, avevano la possibilità, agganciandosi come fornitori alle filiere essenziali, di mandare una lettera in prefettura, di rimanere aperti e quindi di eventualmente avere la preoccupazione di poter ricevere una visita, un controllo, ne sono stati fatti probabilmente l'1% delle richieste che la prefettura ha ricevuto, ne ha controllate qualcosa tipo l'1,8%, ho calcolato insieme ovviamente ad altre persone che mi hanno aiutato a fare questo calcolo. Bene, nella Bergamasca quasi 300 mila persone nella fase dura, quindi nella famosa fase 1 che non è mai esistita, cioè a Bergamo la fase 1 non è mai esistita. A Bergamo siamo sempre stati permanentemente in fase 2 e se alcune aziende hanno chiuso prima del DPCM è perché gli operai avevano paura, perché hanno pensato a se stessi loro cercando di tutelarsi, ci sono sicuramente stati degli imprenditori particolarmente sensibili e illuminati che hanno chiuso, ma ovviamente non c'era una legge che li obbligava a chiudere e questo è stato, trovo che sia stato uno dei fattori di grande ipocrisia, ma che ha in qualche modo rivelato un po' anche il tradimento che una terra così laboriosa e così in qualche modo anche produttiva di fatto è caduta vittima della sua stessa produttività, un po' ovviamente con la complicità dello Stato e un po' perché è gli stessi anche lavoratori probabilmente e imprenditori perché ricordiamoci che quella non è una zona solo di grandi fabbriche, è una zona anche di micro imprese, quindi del piccolo imprenditore che magari ha 5-10 dipendenti e che non se la sente probabilmente di chiudere perché sente il peso anche delle famiglie che ha sulle spalle e dei dipendenti che lavorano per lui, per cui è sicuramente collegato anche alla mentalità di noi bergamaschi. La cosa ovviamente che oggi grida vendetta è che i politici e chi sedeva e stava nella stanza dei bottoni, io parlo innanzitutto della regione Lombardia, perché ovviamente c'è un'indagine in corso e dovranno ovviamente fare degli accertamenti e ricostruire i fatti, quello che oggi noi sappiamo con certezza è che già il 20, il 21, il 22, il 23 di febbraio c'era uno studio a Voiuganeo che ci aveva dato una fotografia di quel piccolo comune di 3.300 persone che ci diceva che c'era già il 3% di popolazione infetta e questo ci raccontava quanto si stesse diffondendo anche velocemente questo virus. Inoltre abbiamo dei dati sulla diffusione del contagio già molto prima di quel famoso 2 marzo, quindi io mi chiedo che cosa hanno fatto con questi dati i politici, il presidente Fontana, l'assessore Gallera, perché non li hanno comunicati e soprattutto non ci credo che abbiano invocato una zona rossa, perché la zona rossa ovviamente non faceva comodo a nessuno e oggi noi sappiamo che ci sono stati contatti di Confindustria, sappiamo degli incontri tra Bonometti e Fontana, sappiamo delle telefonate tra Bonometti e Fontana, sono state tra l'altro anche confermate, per cui non è stata mai negata ovviamente il fatto che sia avvenuto, oltre a esserci dei documenti. La cosa che ovviamente oggi noi sappiamo è che il 27 di febbraio addirittura con la complicità anche, spiace dirlo, dei sindacati si chiedeva di ritornare a una normalità, quindi c'era ancora quel clima antipanico e quel clima del appunto Bergamo is running e Milano is running, il problema è che la Lombardia e chi governava e chi governa la Lombardia, quei dati invece ce li aveva. Un'altra cosa tra l'altro che mi è venuta in mente e che credo che Bergamo oggi ci racconta e ci insegna anche rispetto alla gravità di tutto un sistema sanitario che va ripensato, che va rimodellato da capo a piedi e rispetto a quello che è successo all'ospedale di Alzano è proprio il concetto anche di lottizzazione della sanità Lombarda. Noi oggi sappiamo che ci sono almeno due iscritti sul registro degli indagati rispetto a questa inchiesta, non si conoscono i nomi, supponiamo che siano ovviamente dei dirigenti della sanità Lombarda e persone che in qualche modo abbiano avuto a che fare con la riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo. Bene, quello che oggi noi sappiamo è che diciamo le tre persone principali che hanno determinato diciamo la riapertura di quell'ospedale, quindi parliamo di Cagliazzo, quindi l'ex direttore generale dell'assessorato al welfare che è stato sostituito proprio in questi giorni tra l'altro da un cielino cresciuto proprio nell'era formigoniana. Parliamo di Locati, cioè il direttore generale della SST Bergamo Est che è l'azienda appunto socio-sanitaria a cui fa capo l'ospedale di Alzano Lombardo e Roberto Cosentina che è invece il direttore sanitario vice di Locati. Bene, tutte queste persone sono persone diciamo di nomina politica, sono persone soprattutto Locati che è stato non solo nominato da Maroni, riconfermato da Fontana e quello che io trovo anche scandaloso è che per esempio una persona come Cagliazzo che ha rivendicato di aver dato lui l'ordine di riaprire l'ospedale di Alzano Lombardo, probabilmente lui in quell'ospedale non ci ha mai messo piede. Luigi Cagliazzo per chi non lo sapesse è un ex poliziotto, dirigente della squadra mobile mi sembra di Lecco che di fatto mi fa pensare che non abbia lui come altre persone diciamo di nomina politica non abbia diciamo come primo valore la tutela della salute pubblica ma in questo caso diciamo la fedeltà a un partito politico. Io credo che questo sia anche un altro dei grandi mali di tutto il sistema sanitario lombardo che soprattutto nel caso di Alzano ha evidenziato un totale disinteresse per la salute pubblica perché non è possibile da Milano dare un ordine di chiudere e poi di riaprire un ospedale senza conoscere la situazione, senza aver preso contezza anche dei dati perché poi le ragioni che ha portato Cagliazzo erano che non si poteva chiudere Alzano perché ormai il virus era diffuso in tutto il territorio ma veramente il 23 febbraio il virus era diffuso su tutto il territorio e voi l'avete lasciato aperto fino all'8 di marzo e l'8 di marzo non solo non avete fatto la zona rossa avete fatto una zona arancione avete aspettato fino al 22 di marzo per chiudere le attività produttive. Ho chiuso, ho concluso, ci sarebbe ancora molto da dire ovviamente io sono coinvolta direttamente ho perso anche io dei familiari in questa vicenda è qualcosa che fa molto male perché l'ipocrisia che è stata messa in campo proprio a partire dalla Valseriana io spero che in qualche modo trovi una strada per non solo diciamo per trovare giustizia ma proprio per ripristinare la verità io credo che non solo i cittadini quelli che hanno perso dei parenti abbiano bisogno di ripristinare la verità ma io credo che tutti i cittadini lombardi e credo anche italiani abbiano bisogno di ripristinare la verità perché credo che da dalla Valseriana da Bergamo diciamo si sia scritta una storia che ha cambiato diciamo la sorte e la direzione anche di questa pandemia in tutta Italia io credo che gli errori che sono stati commessi tra il 23 di febbraio e l'8 di marzo veramente siano abbiano abbiano diritto di essere di essere diciamo narrati nel nel modo giusto e che sia ripristinata la verità grazie Francesca per questa ricostruzione anche per questa testimonianza anche del suo lavoro è una ricostruzione che è proprio l'antitesi di quello che noi abbiamo definito all'inizio l'idea di una società della cura quello che è successo da noi è esattamente il contrario di quello che vogliamo che vorremmo diciamo progettare grazie a tutti